buongiorno signor franco come va conosce quest'uomo qualche giorno le deve dare 100 euro io lo so mi ha portato a me qui per dire riccardo diglielo subito così ha paura di prendere viene qui ogni tanto a disturbarmi prende la roba non mi paga i musicisti sono tutti così vedi questa lista che ho io qua su tutti quelli che continuano a telefonare mi dicono che non sono a milano oppure che sono appena arrivati oppure che sono già andati via e non riesco io sono in cima lui non c'è questa è la lista dell'ultimo anno perché se vado a prendere le liste degli anni indietro potrei comprarmi un appartamento in pista sanbabila